Dopo il centrum di via Galvani sta per decollare il secondo centro commerciale in zona produttiva a Buzano Sud in via Galilei. Nel 2009 i giudici avevano bocciato la richiesta di concessione delle licenze commerciali nel nuovo stabile realizzato dal gruppo Agri, chiesta per esercitare il commercio al dettaglio. Ora invece il comune di Buzano ha concesso le autorizzazioni chieste dal gruppo Podini per un totale di quasi 4.000 metri quadrati destinati al commercio al dettaglio, senza le pesanti limitazioni vigenti nel resto della zona industriale bolzanina. La decisione è stata presa circa un mese fa direttamente dal sindaco Luigi Spagnoli dopo aver sentito avvocatura ufficio commercio, di fatto ribaltando la linea dura tenuta fino allo scorso anno e premiata dalla sentenza del Tar che nel 2009 aveva, come detto, bocciato le richieste dell'imprenditore. In una vicenda di grande complessità e che comunque avrebbe dato il via libera a ricorsi, ha sottolineato il primo cittadino, abbiamo scelto giuridicamente il male minore. La linea più dura dell'ex assessore competente Pichler Rolle e dell'ex direttore dell'avvocatura Marco Cappello era stata premiata dall'ultima sentenza del Tar nel maggio scorso, quando i giudici avevano ravvisato la necessità di impedire il rilascio di autorizzazioni in contrasto con le vigenti prescrizioni urbanistiche e di evitare inaccettabili situazioni di disparità di trattamento rispetto ai casi Elettronia e Troni. Ora invece è giunta questa decisione da parte del comune Bolzanino. Le questioni giudiziarie non finiranno comunque certo qui. L'Unione Commercio, che ha già impugnato il via libero edilizio al complesso Agri, con ogni probabilità proverà a far bloccare anche il rilascio delle licenze comunali. Ma intanto si sta assistendo ad un cambio in zona industriale a Bolzano. Dopo l'apertura del Centrum è corealizzata la nuova struttura in via Galilei, che darà vita al più importante polo commerciale della città, con i 4.000 metri quadrati di licenze concesse dal comune e gli altri 2.600 metri dalla provincia. Tra i primi ad entrare in autunno, il colosso Media World.